Guido Guidesi, l'Unione Europea come ha definito la legge di stabilità proposta dal governo Renzi? Siamo in attesa di questa definizione e di questa relazione da parte dell'Unione Europea e della Commissione Europea. La cosa che sappiamo oggi è che il governo sta cercando di accelerare i tempi sulla legge di stabilità, probabilmente proprio perché non vuole che la lettera dell'Unione Europea o qualche richiamo dell'Unione Europea ancora una volta arrivi nel momento in cui si sta proprio discutendo la legge di stabilità. Non vuole correre questo rischio politico per cui tenta di chiudere prima la legge di stabilità. Noi quello che faremo, faremo una discussione forte e attenta su tutti i provvedimenti della legge di stabilità e quello che ci aspettiamo dal governo è che nel momento in cui arriva quella lettera la porti immediatamente in Commissione ed insieme vogliamo capire cosa c'è scritto e per quali motivi c'è un richiamo da parte della Commissione.